Guardi, noi tutti, compreso il sottoscritto, all'incontro abbiamo espresso la nostra completa solidarietà alla Presidente del Consiglio, l'abbiamo fatto oggi pubblicamente davanti a tutti i Ministri e condanniamo tutte quelle forme oggi di minacce che sono assolutamente inaccettabili. Detto questo, credo che sia importante che chi ha il Governo ha uno strumento per evitare che la rabbia delle persone aumenti, rispondere ai bisogni delle persone, governino, questo è il modo, se uno non arriva alla fine del mese bisogna mettergli in tasca i soldi, anziché portare il contante a 5 mila Euro è meglio che mettono il contante in tasca a chi non ce l'ha, allora quelli che sono al Governo si preoccupino nel fare le cose, questo è il modo per risolvere i problemi delle persone, se continuano a aiutare quelli che evadono il fisco o se continuano ad aumentare la flat tax per redditi che sono già alti e quegli altri continuano a pagare per tutti, non solo aumenterà la rabbia, ma noi scenderemo ancora più in piazza e diminuirà anche il consenso del Governo. Grazie.